Migliaia di pezzi di autovetture rubate del valore di circa 7 milioni di euro sono stati scoperti e sequestrati dalla polizia di stato in quattro autoparchi situati nella zona industriale di Cerignola. Gli agenti hanno scoperto l'ingente refurtiva all'interno di diversi box divenute vere e proprie centrali di riciclaggio e hanno proceduto alla denuncia in stato di libertà dei rispettivi proprietari. All'interno dei box sono state rinvenute parti di auto con segni identificativi rimossi o abrasi alcuni subito ricondotti a 12 autovetture oggetto di furto lo scorso anno nelle province di Bari batte foggia. Inoltre è stato rinvenuto dai poliziotti anche materiale utilizzato per la gestione dell'attività di vendita online dei pezzi di ricambio. In totale sono 7 le persone che sono state denunciate per i reati di riciclaggio e ricettazione mentre il valore delle autovetture rubate tutte di grossa cilindrata ammonterebbe a circa 20 milioni di euro.